Grazie a tutti Ciao ragazzi, siamo in un nuovo video di Call of Duty Black Ops 3 Campagna, come avete letto dal titolo, episodio 1 Questa volta non vi chiedo 5 like Cioè, potrebbe uscire anche domani il video Comunque potrebbe uscire anche domani l'altro video della campagna Di Call of Duty potrebbe uscire anche domani Quello che è ragazzi Comunque mi comunico che martedì ci sarà uno live Venerdì 13, Call of Duty, a casa mia, partita l'uno Ovviamente comincio io, poi le altre cose le organizziamo E niente, cioè possiamo... Ah sì, pure che è martedì non sappiamo l'orario Vi dico solo di pomeriggio perché di mattina abbiamo la scuola Vabbè, se avete accettato la campanellina Cioè, davete... vuol dire che... Cioè, l'avete la notifica porca di quella pupù Eh, quindi... Comunque, prima di iniziare a fare la campagna Comunque, vi giuro che non è nella... Vabbè, lascia stare Prima di iniziare la campagna, vi dico Prima di iniziare in quello che cazzo è Intanto prendiamo qua Vi dico solo una cosa Arriviamo a... Dove possiamo arrivare? Dove possiamo arrivare? Possiamo arrivare a... Zero like No, vabbè, cinque like Così, vediamo se potete supportare Se supportate... Cioè, potrei fare anche... Cioè, se supportate questo video Potrei fare anche serie su altri Call of Duty delle campagne Poi non so altro Cioè, possiamo cambiare Comunque, questo Non arriviamo a cinque like per fare un altro episodio Perché mi si dia Aspettate sempre Tipo le sorole Wolverine Perché i Wolverine non si sbiga Eh, sapete E non so Io oggi dovevo fare i video Niente, comunque Non dico più niente Inizio la campagna Ciao A dopo Eccoci ragazzi Intanto Iniziamo a fare la missione Vediamo un po' Cosa dobbiamo fare Non so Va bene Sì, abbiamo la prima missione Che è questa Vedo ovviamente qua Missione successiva Vediamo Vediamo Cioè, volevo dire Io già l'ho fatta sta campagna Tutta Intera Tutta Cioè, mi ha fatto un sacco Mi ha fatto Io e Eravamo insieme Wolverine Nella casa mia pure Ci abbiamo fatto Ci abbiamo sclerato Per questo finale E non so Spero che mi piaccia pure il finale Ma non lo faremo tutti in costruzione Lo faremo praticamente Sono tipo 10 livelli 10 episodi Perché faremo Cioè Poi il secondo livello Un botto Durerà tipo mezz'ora Chissà quanto durerà Però intanto sentiamo Mi sapevo sentire Grandi esodi di massa Le basi dell'accordo Erano in allerta Il sistema DEAD Ha neutralizzato L'attacco Quasi immediatamente Nuovi scontri Tra manifestanti E forze dell'ordine Hanno causato Altre vittime Ebbene sì Questa È una nuova Guerra Fredda Anche se spesso Non possiamo vederli I nemici Sono là fuori Sono Jacob Hendricks Il nuovo capo Questo è il ministro egiziano Said Preso in ostaggio dall'NRC Due giorni fa Dopo le recenti rivolte al Cairo Vorranno farne un esempio Unirlo Noi dobbiamo impedirlo Tanto per chiarirci Se dovesse andar male Voi non esisterà Ok Comunque io sto Stata cosa l'ho subito salvata Ma Io Vediamo ora cosa succederà Cioè insieme Perché io già so tutto Se c'è fuoco Sto vedendo Rifilmati Io non vi spoilerò niente Cargo 4019 Carburante in fiamme Sulla pista 19 Procedere all'atterraggio Sulla pista 11 Confermare Ok A te Ok Modulo di violazione inserita Ricalibrazione puntamento death C'è qualcuno Bypass manuale death Definire bersaglio Handle Input confermato Dati di puntamento Exame Siamo stati agganciati Questo è un metro NRC Alleato in arrivo Qui non ci risulta Possibile che abbiate un guasto Fuoco Ora Fuoco Sistema death In funzione Ingaggio Ho preso la porta Oh merda State giù Va bene Andiamo Un trofeo Ho fermato Andiamo vai Andiamo Verso infinite Oltre Tanto con questi uniformi Passeremo inosservati Almeno finchè non apriremo Ciao Allora Vediamo cosa facciamo fare Ah No No Sto in focante La stazione di sicurezza È di là Nei tunnel Una volta lì Potremo scoprire La posizione esatta Del ministro Testa e armi basse Ciao Alfa Fino al recupero Ciao Alfa Oh cazzo Ci sono due alfa Ti seguo Ma Ma voi siete nemici Muori Non facciamoci vedere Dove sei andato Ah vero È l'home The fucker Va bene Sì ok Ok Sto capendo tutto Ciao amico Non volevo ucciderti E io Non so Ma Perché Mi sono bloccato Ah Dove devo andare Tra l'altro Noi ci siamo accorti Noi ci siamo contro Noi ci si accorgono Di loro E non so Manco io Perché Vediamo Siamo alla stazione Di sicurezza Entriamo Sì Sì intanto cambiamo il terreno... vediamo... c'è un tizio vabbè andiamo avanti ma non lo so proprio quando gli dava il colpo e grazie ma cosi sapevi degli altri prigionieri il ministro è l'unica priorità ricevuto il prossimo fit vai andiamo... abbiamo degli ordini ma sta bruciando il culo ma che cacca ma perché lo dovrebbe soffocare così che cosi e io pure l'ho detto ragazzi perché lo dovrebbe soffocare così ho sempre letto lo spostano andiamo a scoprire dove lo portano vabbè ovviamente e cosa facendo uscire vediamo che sta andando ah ok ma perché devono assaggiare l'abbiamo trovato andiamo a prenderlo tra quanto due minuti due minuti vediamo va bene un altro trofeo basta trofei quanti trofei ci sono in questa missione io non ho mai trovato uno in questa scoperta e va bene si ok ma voi siete pazzi ma voi siete pazzi dove vi stavano sparando hacker ah vabbè con il tre colpi e un colpo muore non è su fortnite ma è esploso quello vediamo cosa... comunque ci saranno cose che io manco sapevo di fare quindi ecco ecco tipo a volte nei video manco cioè non sapevo manco cose che in realtà ho fatto io questo è un pompa brutto come te ehm scherzo Hendrix ah ma perché col pompa poi sono tutti morti Hendrix se vuoi pure vabbè metragliere lassù ah ma perché non ha questo con aiuto aiuto curami ok ovviamente non dobbiamo sempre stare così uh volevi eh uh morto cosa è successo? ma cosa è successo raga? morto oh che ha... va bene qual è che non fa? ma perché? vai vai e lo ah ma questo mi sembra tipo una cosa di spazzatura o? perché già... perché lo sono vabbè dettagli e lo mado fa fu ma da dove? cioè ma quanto lontano è morto quello la? vabbè va bene Hendrix sta facendo solo lui ma... morti! malissimo fammi passare ecco le celle dietro di me li rompi qua chi c'è? non mi ricordo niente ora vai ve lo giuro perché l'ho tipo finito un anno fa l'interrogatore dalle spalle alla volta due sentinelle con la guardia abbassata al mio segnale 3 2 via siamo qui per salvarla faccia come dico e se la caverà va bene il intendente Khalil e gli altri? no non c'è tempo Khalil è stato un eroe della rivolta del Cairo sapete che questo lo rende molto prezioso per la loro propaganda lo faranno diventare un esempio cazzo! ok andiamo va bene però c'è Hendrix è sempre c'è alla porta ti copro io praticamente Hendrix è spiritoso ma anche un po' è troppo però a volte è proprio incassato in cazzo da nero tiro giù quel poveraccio lo è Khalil come è? Khalil ok vuoi combattere Khalil? sempre prendiamo un'arma da quell'armadietto e riprogrammiamola con i tuoi dati ok cosa sta succedendo andiamo andiamo via vai vai vediamo 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 ma io non ho capito siamo in una bassa nemica della come è? ns quello che è che cazzo basta che cazzo non me l'ha mai fatta questa andiamo vai muori muori ma quanto sono immortali sti tizi ma quanto sono bugato io e godo eh eh vai ma da dove è arrivato? eeeh che cazzo di male che cazzo di male che brutta mira gg nel pisellino aiuto 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 vai e' l'uomo the fuck morti 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 vero andiamo mmm no andiamo fatto andiamo no 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 possiamo andare vero? andiamo al montacarichi no si andiamo che cazzo sta facendo? ma che cazzo sta facendo? mamma mamma ma che sei tu ad essere in anticipo mamma mi dite del recupero? cariche pronte andiamo abbiamo dieci minuti diaz devi fare da babysitter fa va bene va bene va bene andiamo andiamo vediamo vediamo ma ma addiozza festa se ci muove perchè non mi fatti tutti morire? basta c'ho fatto c'ho fatto c'ho fatto ma i pro evacuate a quelli ci penso io dai le nostre armi sono inefficaci contro quella pc qua dobbiamo abbattere quel vitor puntare ai missili ma che cazzo sta succedendo? ma che cosa sta succedendo? ma ragazzi ma che cos'è? ma cos'è uno sterminio? no lo sterminio più brutto che abbia mai visto e quello come fa questi? come fanno ad essere ancora mini mini dopo con la coca? come fanno? anche se iniziano perché non mi serva ok ma sterminio vero? adesso è cattivo dai oh vediamo cosa succede due ore dopo aiuto mamma mia vediamo vediamo cosa succede vediamo 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 una litigata ok cambio di programma Hendrix voi preoccupatevi di portare il ministro al sicuro noi torneremo per gli ostaggi altri robot nessun problema sono pane per i nostri denti uscite da qui via vai io guido tu usa una torretta vediamo vediamo occhio abbiamo un sacco di robot che ce l'hanno con noi wow mio dio eh what what the fuck eh eh oh ma ragazzi ma che sta succedendo cosa succede? io sagarte non me la ricordo proprio mamma mia ma che cazzo che cazzo sto facendo secondo te? dai parti strozzo respingeli questa merda non può mollarci qui ma ma sta succedendo il finimondo ma si è partita perché? ma sto giocando a sto gioco? ma perché ci vengono i cosi? ma che cosa sta succedendo? aiuto state calmi ma che sta succedendo aiuto aiuto siamo troppo veloci oh cazzo ma che è successo? vai dobbiamo andare vero bene no oh ma dove sparano? ah sto bene sto bene vi prego ah sono bloccato come una merda no levati ma ti vuoi levar dal cazzo mamma mia ti vuoi levar dal cazzo mamma paul paul rinforzi nrc arrivo da sinistra visto? tutto bene? può moversi? dai 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 dei due vai vai a me stai dicendo vai a me stai dicendo ci serve il ministro di posizione aiuto Aspetta ma cosa Dai lo sto facendo Compa lo sto facendo Eh No no dove sono volato aiuto Sta succedendo Che sta succedendo raga Raga Che è successo Mi ha staccato il braccio Mi ha staccato il braccio Mi ha staccato il braccio Sto stronzo Che problemi mi hai Ah basta Ma siete pazzi Che pugna di penne Eh eh Hendrick ma che ca... No tu non sei Hendrick Chi sei? Come si chiama? Taylor Eh Sì abbiamo finito il primo livello mi sa no? Se mi ricordo Sì abbiamo finito il primo livello Comunque Vediamo Non ci vediamo Anzi no Lo vediamo nel prossimo episodio Lo salto Andrà tutto bene Li abbiamo fregati Ci siamo riusciti Gli uomini supereranno sempre Lo saltiamo Se me lo fa fare Troppo hai subito ferite molto grave E wow Mi ha staccato il braccio Sto coglione Dai robot Tutte e due Non sono Un nodolo Non sono scemo Vabbè Tanto noi usciamo Da Salve nesci E vi dico Una cosa Il video Finisce qui Arriviamo A Cinque like Così Così A dai Tanto Vi uscirà domani Sicuro Il prossimo episodio E niente Comunque Prima di finire il video Vi dico Iscrivetevi Al canale Come c'è scritto La sopra Sopra Nello schermo Come c'è scritto Sopra Nello schermo Eppure Mettete like Come c'è scritto Sopra Nello schermo E Cedete la capellina Dove non c'è scritto Un cazzo Quindi Ora niente Finisce il video Diamo Cinque like Finisce il video Bella raga Ciao Un cazzo